Al termine dell'ennesimo litigio, dopo mesi e mesi di maltrattamenti e tensioni, al culmine di uno scatto d'ira uccise sua moglie. Fu un omicidio d'impeto. Con queste parole il dirigente della squadra mobile della questura di Pescara, Pierfrancesco Muriana, ha illustrato stamani i dettagli dell'omicidio causato 22 anni fa a spoltore di Teresa Bottega, all'epoca dei fatti, 35enne, uccisa dal marito, Giulio Cesare Morrone. Dopo 22 anni dalla scomparsa della donna, la squadra mobile del capoluogo adriatico ha ripreso il caso relativo a Teresa Bottega, che sarebbe stata uccisa dal marito, il quale ha confessato le proprie responsabilità al termine di un lungo pomeriggio di interrogatori, ora è accusato di omicidio volontario. La svolta è arrivata grazie al senso civico di un testimone indiretto che era venuto a sapere da un sacerdote di Pescara l'accaduto due mesi fa, aggiunto ancora il dirigente Muriana, il testimone ci è venuto a raccontare dettagli importanti che fanno riaprire il caso. Dopo un'attenta analisi di quelli che erano i comportamenti dell'epoca presente, sia dell'indagato, sia delle persone che gravitavano intorno a lui, abbiamo impostato questo tipo di discorso, di strategia che ha indotto poi questa persona a rendere confessione. Del resto lui era l'unica persona a depositare della verità. Giulio Morrone, oggi 58enne, aveva confidato circa dieci anni fa ad un padre spirituale di aver ucciso la moglie. Il prete che aveva ricevuto la notizia fuori il sacramento della confessione aveva poi raccontato ad un'altra persona quanto accaduto ed alcuni elementi riferiti agli agenti di polizia nei due mesi passati hanno fatto sì che il caso fosse riaperto e che l'uomo sia crollato durante l'interrogatorio. Che probabilità ci sono di ritrovare il cadavere? Noi speriamo che all'epoca il cadavere sia stato già trovato e però non identificato perché la denuncia di scomparsa è stata fatta mesi dopo. Teresa Bottega era la prima di sei figli, tutti ascoltati in quest'ora. Teresa era anche madre di due figli, un ragazzo che all'epoca aveva 11 anni e che scomparsi in un incidente in montagna nel 2010 ed una ragazza che all'epoca aveva appena 13 anni, oggi sposata con una figlia. Figli, giunto ancora a Muriana, che hanno vissuto per anni pensando che la mamma li avesse abbandonati e che poi hanno saputo che invece la madre era stata ammazzata proprio dal loro padre. Noi crediamo che ci siano altre persone informate sui fatti, testimoni tecnicamente che a questo punto visto che la notizia è pubblica invitiamo a contattarci per raccontarci quanto a loro conoscenza. Giulio Cesare Morrone oggi è indagato a piede libero, andrà a processo nelle prossime settimane come persona libera dopo 22 anni e la confessione non ci sarebbero più esigenze cautelari.